Benvenuti e benvenute a questa puntata del nostro ForumpaPlay dedicata a due dei sette agentivi della PA Colori che sono stati al centro dell'edizione 2024 di Forumpa. Oggi ci concentreremo su PA accogliente e PA competente. Io sono Giovanna Stagno e con me la collega Laura La Penna. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Allora come dicevamo ForumpaPlay dedicato a due temi che stanno particolarmente a cuore a FPA, tutte le dinamiche, i processi e le misure che le pubbliche amministrazioni attuano per attrarre e trattenere i tenenti e dall'altra parte tutti gli interventi, le misure che sono finalizzate alla valorizzazione delle persone e quindi al tema delle competenze della formazione. Sullo sfondo di quelli che vedremo essere i temi al centro di questa puntata, diciamo le evidenze della nostra ricerca, l'impatto dell'intelligenza artificiale sul pubblico impiego, visto che il tema dell'intelligenza artificiale è stato un po' il filo rosso delle diverse puntate. Sappiamo che dall'indagine è emerso che il 57% dei dipendenti pubblici italiani è altamente esposto all'intelligenza artificiale, nel senso che il suo lavoro vedrà una forte interazione con gli strumenti di intelligenza artificiale, una parte di questi potrà integrare l'intelligenza artificiale nelle proprie attività, un'altra parte potrebbe essere a rischio sostituzione. Questo è un po' il contesto in cui ci muoviamo, ma di che cosa abbiamo parlato in questi appuntamenti a Forum Pia, Laura? Allora, il 2023, quindi diciamo lo spazio che ci ha portato a Forum Pia 2024 è stato sicuramente un anno di transizione. I due aggettivi accoglienti e competenti hanno trovato davvero udienza in tantissime occasioni nella tre giorni di Forum Pia. La prima cosa da dire è intanto che ringraziamo tutti, dai docenti degli Academy, agli ospiti, ai relatori, alla nostra community, a tutti gli esperti e professionisti che ci hanno accompagnato e ci hanno aiutato a riflettere su questi temi che sono fondanti tutta la nuova Pia. Se dovessi scegliere dei titoli, che vi lascio così un po', solamente come parole chiave per non fare troppo spoiler di tutto quello che andremo a raccontare tra un po', sicuramente partirei da storytelling. Il tema della narrazione, come viene raccontata la Pia, era centrale anche nel nostro titolo, la Pia a colori. Dicevo, un anno di transizione è quello che ci ha collegato tra l'ultimo Forum Pia e quello attuale, perché è un anno di grandissimi ingressi, quindi, o tanto onboarding, in cui le pubbliche amministrazioni si sono chieste, interrogate, su come diventare attrattive, su come accogliere i talenti, su come trattenerli, su come diffondere il benessere organizzativo, su come programmiare attraverso il Pia o la formazione dei dipendenti, attraverso cicli che durano più anni, così come le assunzioni. Quindi tantissimo lavoro, senza, diciamo, trascurare tutta l'importanza della valutazione degli impatti dell'intelligenza artificiale. Tantissimo lavoro che spesso viene raccontato, però, in maniera residuale, perché passa ancora l'idea di una Pia che non è l'eccellenza italiana, ma che è un luogo grigio, in cui forse si cerca un posto fisso. Diciamo che il contesto l'ho anche descritto, è presentato un po' il ministro Zangrillo, che è intervenuto alla manifestazione e ci ha lasciato un po' nel suo intervento, diciamo, il polso dello scenario in cui si muove la pubblica amministrazione. Possiamo sentire il suo intervento? Non di dimenticare, la pubblica amministrazione da qui al 2032 lascerà a casa un milione di persone, perderà un milione di persone che matureranno i requisiti per andare in quiescenza. Noi abbiamo la necessità di sostituire queste persone e lo dobbiamo fare in un'epoca particolarmente complicata, un'epoca complicata perché è un'epoca di profonde trasformazioni e quindi noi abbiamo la necessità di comprendere il contesto nel quale operiamo e capire che cosa serve per fare diventare attrattiva la nostra organizzazione. Oggi siamo nell'epoca della trasformazione digitale, ho ascoltato l'ultima parte del panel che ci ha preceduto, si parla di trasformazione digitale, si parla di intelligenza artificiale. Ecco bene, noi abbiamo la necessità di poter cogliere queste opportunità per migliorare il nostro rapporto con i clienti, i cittadini, famiglie e imprese. E per fare questo... Questo è un estratto dell'intervista che trovate tra l'altro sul nostro sito in formato integrale, tutti gli estratti che ascolteremo in questa puntata sono disponibili sul sito di Forum.pia del ministro Zangrillo con il direttore dell'ANSA Luigi Conto. Sono tantissimi temi che hanno affrontato in oltre 20 minuti di intervista, sicuramente il merito, il tema delle progressioni di carriera, della leadership dei dirigenti e anche delle modalità di selezione dei dirigenti e del ruolo della trasformazione digitale. Perché la competenza, diciamo, continuare a studiare ad essere pronti alle sfide del futuro, ma in realtà un futuro che è già presente, ci collega al secondo aggettivo che abbiamo analizzato, a cui ci siamo tanto dedicati in questo Forum.pia, che è pia competente, ci fa riflettere sul ruolo della formazione. Alla formazione abbiamo dedicato uno scenario, quindi un grande evento in arena, sempre nella giornata di apertura di Forum.pia e per capire meglio di che cosa abbiamo parlato sentiamo subito un estratto dal contributo di Lari Antonini, che è capo dipartimento dell'amministrazione generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il MEF. Con questo progetto noi abbiamo individuato tre leve fondamentali che aiuteranno il cambiamento del Ministero. Agire sulle persone. Allora, noi notiamo che l'innesto dei nuovi dirigenti nelle strutture e a contatto con i nuovi funzionari e con i funzionari che tu citavi del passato e i dirigenti del passato, è un meccanismo che produce cambiamento, perché le persone, questa è la prima leva, l'abbiamo sentito anche nel precedente intervento panel, sono coloro che fanno il cambiamento. Su due livelli noi agiamo. Abbiamo il livello del personale non dirigenziale e dirigenziale. Sul persona e su entrambi noi dobbiamo convincere e quindi comunicare una nuova, diceva il Presidente, una storytelling della nostra amministrazione per entrambi, ma dei dirigenti dobbiamo invece insegnare la capacità di guidare il cambiamento. L'organizzazione, la traleva, lo dicevo, sia dal punto di vista logistico che di modelli di lavoro, una fortissima quindi interesse al lavoro agile e flessibile e agli spazi e infine la tecnologia. Bene, Laura, abbiamo visto anche appunto che i primi concetti che abbiamo messo sul tavolo sono tanti. All'interno di questi concetti abbiamo visto numerosi talk, appuntamenti, appunto incontri e tavoli di lavoro. Volevo soffermarvi e tornare un attimo sul concetto invece di più accogliente, perché anche quello chiaramente ha tante declinazioni tematiche. una di queste che poi è stata anche approfondita nell'intervista dal Ministro Zanghillo è il rapporto tra le giovani generazioni e la pubblica amministrazione, quindi l'ingresso dei giovani all'interno dell'APA. E quindi torniamo al tema dell'attrattività. Nello scenario appunto dedicato all'APA accogliente abbiamo avuto ospite proprio una ragazza che, grazie proprio ad uno degli strumenti che stanno permettendo di avvicinare i giovani alla pubblica amministrazione, sta sperimentando un po' con mano cosa vuol dire lavorare nella pubblica amministrazione. Lei è Laura Porta, dottoranda del Politecnico di Milano e membro di Officine Italia e possiamo sentire il suo contributo. E quindi insomma, riagganciandomi, mi risuonavano molto le parole sul purpose, sull'impatto, che i giovani in questo momento vorrebbero avere nella loro vita e come il lavoro debba coincidere con un purpose più grande, che è quello dell'impatto sociale e per la collettività. E io mi chiedo, non c'è un employer migliore dove poter mettere, forse sono un po' estrema, però dove poter mettere in gioco questo purpose. Il pubblico è dove veramente una persona riesce a cambiare le cose, a creare impatto per la società e quindi dobbiamo veramente cercare di creare, di moltiplicare i canali di comunicazione e di connessione tra i giovani che hanno questo purpose, è un driver motivazionale e lavorativo grandissimo, e la pubblica amministrazione per abbattere questo tipo di barriere magari che sono... Bene, appunto, tema dell'attrattività della pubblica amministrazione, ingresso delle giovani generazioni, attrarre talenti chiaramente è un tema centrale e in alcuni degli appuntamenti siamo anche riusciti a dare lo sguardo anche dell'estero, di quello che accade negli altri paesi. Nello specifico mi ha incuriosito l'intervento del referente dell'Agenzia regionale Bizzaya Talent dei Paesi Baschi, ospite ad una rubrica organizzata insieme alla Regione Mila-Romagna, nel suo intervento faceva proprio riflettere su come in realtà l'attrattività in generale delle organizzazioni per un paese possa anche essere strettamente legata, possa diventare una leva per il ritorno dei cervelli, quindi per fare ritornare in un certo senso, riportare a casa quelle competenze che si sono formate fuori. Sentiamo lo spezzone. Facciamo arrivare magari. Nel caso nostro abbiamo iniziato la nostra attività 17 anni fa, a quel momento nessuno parlava sulla necessità dei talenti e tutto quello, soprattutto parlavamo o parlavano a quel momento sulla necessità di riattrare quelli baschi che erano usciti dai paesi baschi, soprattutto in Europa, soprattutto United Kingdom, soprattutto a Germania. di farli tornare insomma, di farli tornare. Farle tornare, farle tornare. E questo era l'inizio, era come un debito che noi avevamo come paese con loro. Ma a quel momento, figurate, il tasso di disoccupazione nei paesi baschi più o meno era del 16%. Parliamo del 2008 più o meno, l'inizio della crisi e tutto quello. Quindi c'erano delle persone che dicevano perché fare questo se non ci sono delle opportunità qua. E la prima cosa che abbiamo fatto è analizzare cosa succederà con la demografia da quel momento fino all'anno 2025-2030. E quello che avevamo visto chiaramente era che bisogna attrarre delle persone. Perché? Perché abbiamo perso tantissime persone in età lavorale. e quindi molta gente adesso è nel retiro, nel retiro si dice? Sì, nel retiro e in pensionati. e quindi per poter continuare con la nostra qualità di vita bisognava attrarre questi professionisti. Bene, mi sembrava interessante, Laura, vedere come appunto questo tema rappresenta proprio una leva per appunto riportare a casa le competenze. In realtà ci sono altri temi che circondano quelli che abbiamo visto. Uno di questi, quello dei concorsi, lo abbiamo approfondito, no? Sì, sicuramente il tema dei concorsi è un tema centrale perché ci aiuta a capire come si entra, con quali modalità si entra nella pubblica amministrazione, ma quali sono i profili che vengono selezionati. E a quei profili quali descrizioni corrispondono. Quindi non semplicemente il profilo amministrativo, ma un dipendente che viene immaginato già nel momento della scrittura del bando, prima appunto insomma di entrare in servizio. Immaginato non solo con le sue competenze tecniche, che ovviamente sono importanti, ma anche con quelle soft skills specifiche che dovrà avere e che lo aiuteranno diventando un bagaglio personale che lui andrà a portare per creare valore pubblico nell'amministrazione che lo accoglierà. C'è poi, diciamo, l'altro argomento molto importante che abbiamo trattato, che è un po', non direi a corredo, ma è proprio importante allo stesso modo, è quello dei contratti. Cioè come accogliamo a livello dei contratti i dipendenti che entrano e i dipendenti, in proposito di retention, che sono già dipendenti anche da molti lustri nella pubblica amministrazione dato l'età media. L'abbiamo chiesto, non potevamo fare altrimenti, ad Antonio Nadeo, il presidente dell'Aran, e andiamo a sentire cosa ci ha risposto. Con le organizzazioni sindacali si fanno gli accordi con le organizzazioni sindacali. Io amo, diciamo, definire i contratti come strumenti per la gestione delle persone che favoriscono un po' l'organizzazione delle singole amministrazioni. Siamo ancora all'inizio. Sicuramente gli ordinamenti professionali sono stati rivisti, c'era soprattutto nelle amministrazioni centrali. Forse le amministrazioni locali hanno avuto un pochino più di difficoltà, ma io penso che qualcosa sia stato fatto. Sull'area di elevata qualificazione, l'abbiamo prevista, leggo nei PAO che ci sono le intenzioni da parte delle amministrazioni centrali di finanziarlo, però fino adesso posizioni di elevata qualificazione non sono state messe ancora a bando, perciò questo è un aspetto. Sul lavoro agile, la smart work l'abbiamo regolato bene, perciò penso che adesso quello si rimette sempre all'organizzazione delle singole amministrazioni. Abbiamo sentito nelle parole di Nadeo grande autonomia a tutte le pubbliche amministrazioni, dalle locali alle centrali, nell'applicare tutte le innovazioni normative contrattuali degli ultimi anni. Quindi la rimodulazione dei livelli a cui fanno riferimento tutti i dipendenti e la gestione, anche questa autonoma, dello smart working. Ma come facciamo a introdurre ed essere sicuri quindi che nelle assunzioni che andiamo a fare ci siano quelle competenze che cerchiamo? Ce l'ho raccontato molto bene, è il suo secondo lavoro, quello di consulente ed esperta specialista nei concorsi pubblici e selezioni, Paola Suriano, nell'Accademy che ha tenuto a Forum PA su questo tema. Andiamo ad ascoltarla e poi commentiamo. Ma quando parliamo di capacità rispetto al ruolo che dobbiamo andare a ricoprire, noi dobbiamo parlare di quelle indispensabili per ricoprire quel ruolo. Non so che se parliamo, pensiamo a l'assistente sociale necessariamente deve avere capacità di ascolto e di empatia, altrimenti l'assistente sociale non la può far bene. Se parliamo di figure che hanno a che fare con le squadre, devono avere capacità di guida, indispensabile. Un avvocato, di avere capacità di comunicazione, indispensabile. Tutto il resto ci sta, tanto tutti abbiamo tutto, ma per quel profilo qual è quello che serve? E anche conoscenze, cosa ci serve? Ripartire quindi dall'essenziale ma soprattutto da una valutazione meticolosa delle competenze tecniche, le nozioni e le soft skills che il candidato ideale deve avere. Quindi cominciare veramente a immaginare i nostri dipendenti del futuro nella fase di scrittura e di progettazione del bando di concorso. La cosa importante però non è solo sapere immaginare quali sono i dipendenti che vogliamo attrarre e poi tenere nelle nostre amministrazioni, ma immaginare un luogo che abiliti le competenze e tutte anche le ambizioni dei dipendenti della pubblica amministrazione, perché si sentano in ogni momento contenti del loro percorso. Questa bellissima ambizione ce l'ha raccontata Luigi Ferdinando Nazzaro, che è direttore risorse umane e organizzazione della Regione Lazio e passiamo ad ascoltare il suo estratto. Sulle professionalità e sull'approccio della dirigenza pubblica, dei funzionari pubblici nella metodologia del lavoro, perché sono importanti e fondamentali non solo le conoscenze tecniche. Noi la formazione l'abbiamo vista sempre con un approfondimento tecnico di conoscenza tecnica o specialistica. In realtà fondamentali e sempre più ci sembra, lo vediamo anche dagli esempi proprio dei progetti e di come sono stati strutturate le organizzazioni di cui ci hanno parlato le colleghe. Fondamentali sono quelle soft skill, tutte quelle attitudini e quelle capacità di coinvolgimento relazionali che aiutano il benessere organizzativo e il lavoro di gruppo e il lavoro condiviso di una squadra che persegue, che condivide un obiettivo, condivide un percorso e persegue quindi il risultato. Bene, Laura, diciamo che appunto l'avevamo anticipato, più accogliente e più incompetente portavano dentro tantissimi aspetti e poi sono anche degli aspetti, lo vedremo un po' più avanti, che sono stati oggetto del tavolo di lavoro che abbiamo organizzato con il direttore elettrici e il personale, sono appunto quelli della formazione, quindi del recruiting e adesso vedremo l'organizzazione del lavoro, attraversati in un certo senso percorsi dal grande tema dell'impatto dell'intelligenza artificiale e introduco questo proprio perché abbiamo parlato anche di modelli di organizzazione del lavoro nei diversi appuntamenti nei nostri talk e lo abbiamo fatto cercando di riflettere in maniera un po' diciamo di prospettiva di quello che accadrà alla luce anche di questa rivoluzione portata dall'avvento dell'intelligenza artificiale. Abbiamo parlato di come, e l'abbiamo visto anche nella presentazione della ricerca, di come sia necessario chiaramente adesso riprogettare il lavoro, riprogettare le organizzazioni per essere in grado di cogliere poi le opportunità che questa innovazione può portare e non quindi subirla e anche un po' andando oltre quello che è chiaramente di primo impatto il timore della sostituzione dei lavoratori a seguito dell'introduzione dell'intelligenza artificiale. Mi piaceva farvi sentire su questo il contributo di Giovanni Anastasi, presidente del Formez. Penso che l'intelligenza artificiale paradossalmente cos'è? Venendo anche da esperienze di natura tecnologica e togliendo anche ogni tanto il wording che ci fa vedere delle cose che sempre non sono quelle che sono, penso che sia un acceleratore. Quindi io conto sul fatto che la useremo come scusa per superare dei gap di intelligenza naturale che avremmo comunque potuto approntare e un acceleratore. Questo significa che a un certo punto si può fare quello che in consulenza si chiamerebbe quantum leap, quindi si fa un salto e si consente di andare oltre. In cosa ci può aiutare? Ci può aiutare ovviamente nella maggiore disponibilità delle informazioni, come ho detto due giorni fa può aiutare l'essere umano a posizionarsi naturalmente verso una posizione di leadership. E' un fatto darwiniano, cioè andare tra dieci anni, cinque anni, essere bravi a recitare a memoria un manuale di diritto amministrativo, non sarà inutile, sarà ridicolo. Cioè non ne sarà quello. Dovremmo essere capaci di selezionare le informazioni, utilizzarle al meglio, essere competitivi con questa disponibilità, saper riconoscere quello che è fake da quello che è attendibile, saper fare una sintesi, gestire i copyright, gestire la proprietà intellettuale. E' lì che ci dovrà spingere. Smettere di avere paura dell'intelligenza artificiale, ma domandarci davvero come possiamo diventare dei lavoratori aumentati, che siano in grado di fare almeno una, due, tre delle cose che ci dava Anastasi nel suo veramente interessante contributo. Ne abbiamo parlato in tantissime altre occasioni. Quella che vi segnaliamo tra poco è il contributo di Mario Ettore, che è il CISO di Invitalia. E all'interno del talk, l'HR Management ha la prova dell'intelligenza artificiale. Lui ci ha raccontato come la gestione del personale possa cambiare grazie agli strumenti di intelligenza artificiale e basandosi su modelli soprattutto americani già in uso. Adesso ci ha fatto un po' una prospettiva, una galleria di utilizzi che possono essere già pronti. Ascoltiamolo perché è molto interessante. Allora in questo quadro io vedo attorno a me che bisogna attivare due leve, non lo dico da esperto di risorse umane, faccio outing, ma lo dico da persona coinvolta in questi processi. Cioè il reskill laddove è possibile, o la formazione o l'hiring di nuove competenze. Quindi queste sono le due armi che abbiamo. Rubo qualche secondo in più solo per dire che nella gestione dell'intero processo delle risorse umane gli utilizzi dell'artificial intelligence oggi sono già piuttosto concreti. Si parla di POC, si parla di MWP, ma ci sono prodotti in esercizio. Per pubblicare un annuncio oggi potete farvi aiutare dalla generativa I. c'è un risparmio netto che è stimato tra il 45 e il 55%. Il best match tra 100 candidature che arrivano e un profilo aperto può essere accelerato dalla generativa I. La pianificazione ottimale delle risorse è già attiva da un decennio con modelli deduttivi e induttivi perché se ho 10 commesse e 200 impiegati posso usare ancora il foglio Excel, ma con 300 commesse e 6.000 impiegati il foglio non regge più. Servono sistemi avanzati. Così come possiamo utilizzare sistemi di ultima generazione per intercettare quei segnali deboli che lasciano preludere a una crisi del well-being del dipendente è un abbandono prematuro dall'azienda. Ci sono modelli che ci possono aiutare a far innescare quelle azioni di retention che possono trattenere la risorsa. Quindi Laura, gli strumenti in realtà un po' ci sono, cominciano a prendere piede. Quello che abbiamo visto è anche un po' la necessità di prendere consapevolezza di quello che sta accadendo, dare un po' il giusto nome alle cose, fare sistema e quindi mettere a fattore comune queste esperienze e queste soluzioni e in un certo senso anche integrare l'intelligenza artificiale nei processi, nei diversi processi all'interno delle organizzazioni e quindi capire anche in che modo l'intelligenza artificiale si integra nei processi di lavoro. Prima di andare verso la chiusura, alla luce anche di quello che abbiamo sentito, abbiamo selezionato un altro intervento da un talk organizzato con IDPPA, dal titolo curioso che muove appunto dal titolo di un libro Intelligenza artificiale, strumento collega o consulente, idee per un APA che non teme il futuro. E su questo rapporto tra i lavoratori e l'intelligenza artificiale sentiamo Marco Pistore, direttore del centro Digital Society di Fondazione Bruno Kessler. Sicuramente l'intelligenza artificiale sono strumenti, sicuramente non sono colleghi e dobbiamo imparare a vederli come consulenti. Cerco di articolare, il fatto che siano strumenti penso sia chiaro a tutti, insomma, li utilizziamo, ci aiutano in tante attività che facciamo, sono strumenti. Perché non sono colleghi? Perché collega deriva da cum legare, che vuol dire affidare un incarico insieme. È questa idea che i colleghi svolgono assieme in maniera solidale, diciamo, con una responsabilità condivisa, un'attività. E io non penso che possiamo riconoscere nell'intelligenza artificiale questa solidarietà, questa comunanza di obiettivi con noi. Invece il consulente indica un esperto in uno specifico ambito a cui noi ci rivolgiamo per avere un consiglio, per avere una consulenza, per avere un chiarimento. E io penso veramente che l'intelligenza artificiale non sia un consulente, ma sia in realtà una squadra di consulenti molto aggressivi che abbiano la capacità di penetrare nella nostra vita e nelle nostre professioni. Bene, insomma, anche questo contributo molto interessante ci dà un po' una visione di quelle che possono essere le prospettive di utilizzo dell'intelligenza artificiale. Di questo, come avevamo anticipato prima, abbiamo parlato anche nel tavolo organizzato insieme ai HR manager. hanno partecipato 40 tra direttori e direttrici del personale dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni italiane che hanno fondamentalmente messo a fattore comune una serie di osservazioni, di preoccupazioni, ma anche di opportunità legate all'intelligenza artificiale su questi tre macroambiti che abbiamo analizzato oggi, il recruiting, la formazione e l'organizzazione del lavoro. E questo tavolo, che parte poi di un percorso che vogliamo portare avanti con loro e con le aziende del settore privato che ovviamente possono supportare queste figure nei loro processi, è appunto stato un appuntamento molto molto importante. Perché questo percorso, perché questo tavolo e perché questo percorso, ve lo facciamo dire direttamente da due dei protagonisti, esatto, che ci lasciano un po' anche la sensazione, l'impressione che hanno avuto rispetto all'essere parte di una community. Sentiamo Paola Liberace, dirigente responsabile organizzazione e gestione del personale di Agid e Paolo Weber, direttore centrale risorse umane di Istat. Sappiamo anche il suo parere. Com'è andato il tavolo di ieri su Gli HR Manager e soprattutto cosa vi portate a casa da quel confronto? È stata un'esperienza, secondo me, ma credo per tutti, estremamente costruttiva, anche proprio nel senso di un'opportunità di creare un cortocircuito molto fecondo tra, diciamo così, centro e periferie, per dirla con un termine non molto bello, però davvero quello di cui abbiamo bisogno è di mettere a fattor comune conoscenze e esperienze che non devono rimanere, come dire, decentrate o centralizzate, ma che devono circolare e il tavolo è stata un'ottima occasione, devo dire, per farlo, proprio anche parlando di un argomento di caldo come l'intelligenza artificiale. Mi porta a casa una sensazione di grande proattività e entusiasmo da parte di vari responsabili di risorse umane, anche dal mio punto di vista il fatto che fossero presenti al tavolo rappresentanti di amministrazioni diverse è un valore aggiunto. Grande proattività, grande entusiasmo, una certa, diciamo così, confusione, anche rispetto all'identificazione di cos'è esattamente un sistema di intelligenza artificiale e mi porto a casa la consapevolezza da un lato della necessità e magari ci potete aiutare voi di creare una... di valorizzare e consolidare una community su questi temi e nello specifico sull'identificazione di intelligenza artificiale nell'ambito della pubblica amministrazione, ma ancora di più con le organizzazioni private. Questo credo che sia il vero valore aggiunto, non tanto lato IT che spesso, insomma, li incrociamo, spesso abbiamo avuto, insomma, ci fanno vedere i loro prodotti, ma soprattutto lato risorse umane, nello specifico ieri, nel tavolo. Non è un caso che chiudiamo con i protagonisti di una community, perché se dovessimo scegliere fra le tantissime parole che hanno accompagnato il percorso di questi due aggettivi, accogliente e competente, i temi sono davvero tantissimi. Una delle parole che abbiamo sentito spesso è la parola squadra, la squadra multimediale che deve essere un po' quel team delle meraviglie che aiuta tutti i dipendenti a progettare, a inserire gli strumenti di intelligenza artificiale nel loro lavoro, quindi multidisciplinare e unito, come il team, è un po' l'unità minima del lavoro di squadra, il lavoro ibrido si basa sull'interazione tra team, quindi sicuramente il raccontare e lavorare in community a Forum Pi è stato un valore aggiunto e qualcosa che ci porteremo avanti nel tempo. Esatto, noi insomma vi ricordiamo che tutti questi estratti che vi abbiamo fatto vedere e sentire in questa puntata sono disponibili sul nostro sito e che insomma potete diciamo andarli a rivedere e approfondirli nei punti e negli interventi che vi interessano di più. Io ringrazio Laura. Grazie Giovanna e grazie a voi per l'attenzione. Grazie e a presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.